Il suo nome, quando si parla di The Expendables, viene continuamente a galla, ma Steven Seagal, a dispetto delle aspettative di tutti i fan, forse una volta per tutte, chiude qualsiasi discussione. Sarà perché l'attore è stato un passato rivale, in senso positivo e cinematografico, di tanti protagonisti del franchise, e forse dobbiamo ammettere che anche noi un ruolo glielo avremmo sicuramente dato, eppure non se n'è mai fatto nulla. Si era vociferato che Steven potesse interpretare la parte del cattivo nel terzo film, nelle sale a settembre, ma tutto è sfumato ed è stato proprio l'attore a confessare qualche mese fa che i motivi sono stati burocratici e politici. Eppure ora, interrogato nuovamente sulla vicenda dal sito Flickering Meat, molto più onestamente ha invece ammesso che anche i protagonisti della pellicola hanno avuto la loro importanza in questa decisione. Semplicemente non mi piacevano alcune delle persone coinvolte, ha confessato. La vita è troppo breve per lavorare con persone divertenti, dovunque ci sono persone buone e persone cattive, e in Expendables ci sono anche tante persone che mi piacciono, per cui va bene così. Steven non fa nomi, ovviamente, ma dalla lista possiamo eliminare Jason Statham e Jet Li, con cui l'attore ha confessato di voler lavorare volentieri. Di chi si tratterà?